Ciao, oggi vediamo insieme l'articolo, der Artikel. In tedesco ci sono tre articoli per i sostantivi al singolare e sono der, maschile, die, femminile e das, per il neutro. Per quanto riguarda invece il plurale, sia del maschile che del femminile che del neutro, ce n'è solo uno, ovvero die. Gli articoli sono piuttosto difficili, purtroppo, da ricordare in tedesco, anche perché non c'è una regola generale che li possa riunire tutti insieme secondo i vari articoli der, die o das. Il consiglio più grande che ti posso dare è questo. Impara sempre l'articolo insieme al sostantivo. Sempre, anche se è un piccolo sforzo in più. Ma vedrai che renderà moltissimo. Ad esempio, se impari una nuova parola come welt, che in italiano è maschile, il mondo, impara subito anche il suo articolo, come ad esempio die, die welt. Anche perché, purtroppo, non c'è sempre corrispondenza, anzi, non, proprio non sempre, assolutamente, tra il genere in italiano e in tedesco. L'esempio più classico è il sole e die sonne, la luna, der mont. Quindi è importante ricordarli sempre, ogni volta che studi un nuovo vocabolo. Per i nomi, invece, che indicano persone o professioni, come appunto il dottore, la maestra, può esserci qualche corrispondenza. Ad esempio, der Vater, il padre, der Bruder, il fratello, der Lehrer, l'insegnante maschio, l'insegnante uomo, c'è una piccola corrispondenza. Oppure, die Mutter, la madre, die Schwester, la sorella, die Lehrerin, l'insegnante femmina. Quindi, anche qui, ci può un pochino aiutare. Però, ripeto, purtroppo, non sempre. Anche perché ci sono moltissime eccezioni, come ad esempio das Kind, il bambino, e das Mädchen, la ragazza, non die Mädchen. Però, questo Mädchen, poi dopo te lo posso spiegare, il perché di questa particolarità. Attenzione, in tedesco sai che ci sono moltissime parole composte e spesso le due parole da cui è composta una parola più grossa a due articoli differenti. In questo caso, die Birne und der Saft hanno due articoli diversi. Der Birne Saft prende l'articolo dall'ultima parola, quindi sempre dalla parola in fondo. Però c'è una piccola buona notizia. Ci sono gruppi di sostantivi che hanno sempre lo stesso genere. Sono pochi, ma possono aiutare. Per quanto riguarda il maschile, quindi der, sono sempre maschili i mesi dell'anno, come ad esempio der Februar, le stagioni, der Frühling, i giorni della settimana, der Montag, i punti cardinali, o le marche di automobili, come ad esempio der Fiat, der Volkswagen. Però attenzione, ho detto le marche di automobili, perché ad esempio, come tutti noi ricordiamo da una nota pubblicità, è Per quanto riguarda il femminile, invece, si guarda il finale della parola. Tutti i sostantivi che terminano in Sono sempre femminili, di. Mentre invece con il neutro, con il das, ci sono i verbi che diventano un sostantivo, il mangiare, o i diminutivi in chen o lein, come das, medchen. Adesso vediamo insieme un piccolo esercizio. Qui hai dei sostantivi, prova a inserire tu l'articolo. In questo caso è abbastanza facile, perché non hai dovuto studiare prima i sostantivi. Devi semplicemente rivedere la prima parte della lezione, dove ti spiego le particolarità. E questi sono tutti dei nomi che hanno ognuna una sua particolarità. Ad esempio, der März, perché è un mese. Die Freundschaft, perché finisce in schaft. Das Sprechen, perché è un verbo che è diventato un sostantivo. Die Hunde è un plurale maschile. Die Damen è un plurale femminile. Das Büchlein è un diminutivo. Der Winter è un mese. Scusami, una stagione. Die Wohnung, l'appartamento finisce in ung. Die Freiheit, la libertà, finisce in heit. Der Freitag, perché è un giorno della settimana. Quindi, con le piccole regole che ti ho dato prima, alcuni sostantivi riuscirai da solo a ricordarti l'articolo. E l'articolo, purtroppo, è fondamentale in tedesco e poi vedrai perché. Quindi, prima di salutarti, ricorda. Gli articoli in tedesco sono tre al singolare e uno al plurale. Der Didass und Die. Non c'è corrispondenza con l'italiano, o almeno non sempre. Non c'è una regola generale per ricordarli. Solo piccoli aiuti. E, la cosa più importante di tutti, impara sempre il sostantivo con il suo articolo. E, la cosa più importante di tutti, impara sempre il sostantivo con il suo articolo.